Io non ho parole, è un dolore molto forte, insomma, un dolore molto forte. Ci siamo sentiti anche all'ultimo dell'anno. Quello che ha fatto Pino, che ha continuato a fare fino ad adesso, insomma, ha dato un grande contributo alla nostra città, insomma, il contributo di sentimenti, insomma. Pino era l'unico cantautore, cantante, insomma, che ha saputo mettere a fuoco i nostri sentimenti per tutti. Pino era questo, insomma, Pino ci ha dato la nostra città, ci ha dato un po' di calore in più e allora la gente non può dimenticare che ha un sentimento molto forte come questo qua, capito? È stato l'unico, è l'unico, è l'unico, è l'unico, è l'unico. Lui nella sua musica e nei suoi testi, che andava a Napoli, insomma, che andava alla sua città, era molto difficile che nasca qualche altra, forse tra 50 anni o altri, non ci ne vedo più.